ciao ragazzi buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale canta nella libertà eccoci nello spazio riservato ai duetti siccome noi siamo in zona rossa e oggi sono a casa ho bisogno dell'aiuto di una persona a me molto cara quindi mi presento maria ciao ragazzi ciao mario e quindi oggi vedremo una canzone molto bella di pino daniele con irene grandi che si chiama se mi vuoi dopo la sigla bene prima di andare avanti io vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella in modo che quando esce una nuova puntata e arrivi una notifica dunque ragazzi in questa canzone le voci vanno quasi sempre insieme nella strofa ognuno fa la propria strofa poi a un certo punto la canzone fa così e sale e sale e salirà quest'ansia che ci unisce e passa ma non passerà questa ma non è ancora ma senza tempo bene come abbiamo visto le due voci vanno perfettamente all'unisono mentre alla fine si sdoppiano è la voce femminile la voce maschile rimane uguale a quella di prima mentre la voce femminile fa così e sale e sale e salirà quest'ansia che ci unisce e passa ma non passerà questa tempo che cresce e sale e sale e sale e salirà quest'ansia che ci unisce e passa ma non passerà questa tempo che cresce vediamo adesso l'effetto delle due voci insieme e sale e sale e sale e salirà quest'ansia che ci unisce e passa ma non passerà questa tempo che cresce e sale e sale e salirà quest'ansia che ci unisce e passa ma non passerà questa tempo che cresce Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Maria io ti ringrazio, grazie per averci dato una mano Grazie a te e ci vediamo alla prossima puntata Ciao 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 a tutti